E' passato un anno dalla donazione della Villa Cembalo da parte della famiglia, che con grande generosità ed altruismo, si legge in un comunicato di orgoglio nisseno, donava la sua bella villa di Via Due Fontane alla Croce Rossa Italiana, affinché potesse realizzarsi un centro per donne e bambini in difficoltà. L'importante organizzazione di volontariato, si legge ancora, nel ritenere l'iniziativa della famiglia Cembalo lodevole e di grande utilità per la città di Caltanissetta, si impegnava ad adeguare nel più breve tempo possibile l'immobile alla nuova destinazione sociale. E' così il movimento politico pone dei quesiti. Chiediamo a che punto siano i lavori di adeguamento della Villa Cembalo e quando si prevede possa realizzarsi l'ambizioso progetto del centro per donne e bambini in difficoltà. La struttura denominata Villa Cembalo è attualmente in fase di adeguamento strutturale e tecnico, ci fanno sapere dal comitato nisseno della Croce Rossa Italiana. I lavori sarebbero necessari dunque per realizzare il centro destinato a donne e bambini in difficoltà. E sulle tempistiche, precisano ancora, si stanno prolungando a causa dell'innalzamento dei costi dei materiali. La struttura Saroggetto concludono di progettualità solidaristica appena conforme alle vigenti normative in materia.